Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Questa sera presentiamo il libro di Federico Fubini, Per amor proprio, perché l'Italia deve smettere di odiare l'Europa e di vergognarsi di se stessa. Ecco, quando noi parliamo di Europa ci troviamo di fronte sostanzialmente a tre macro scenari. Primo, dato da una parte di cittadini ormai sempre più ridotta, che sostiene a spada tratta e a volte in maniera anche a critica l'idea del progetto europeo. Ogni pensiero, critico o dubbio, viene tacciato come disfattismo. Secondo, rappresentato invece da una parte in crescita di cittadini che sempre più hanno sposato le idee sovraniste, popolari, nazionaliste, che vedono nell'Europa l'origine e la causa delle loro difficoltà. Ma me ne è un terzo che rappresenta la maggioranza dei cittadini, che è composta da persone indifferenti o amorfi nei confronti dell'Europa. L'Europa negli ultimi anni è diventata sempre più qualcosa di distante, più un meccanismo burocratico, un progetto che non è riuscito a scaldare gli animi. È a questo terzo gruppo che si rivolge il nostro autore. L'obiettivo consiste nel formulare una serie di argomentazioni, di fornire ragionamenti, anche se critici, che aiutino ad avvicinare il cittadino ad una visione positiva dell'Europa, anche se questa Europa, lo dice chiaramente l'autore stesso, deve cambiare se vuole avere un futuro. È un libro quindi che cerca di parlare più alla ragione che alla pancia, con una chiarezza di linguaggio e di argomenti che potremmo dire sono il marchio di fabbrica dell'autore. Noi abbiamo avuto il piacere di sentirlo più volte, lo sentirete anche voi questa sera. E mi ricordo ancora quando scriveva per la stampa, e poi è continuato con Corriere della Sera, se qualcuno ha avuto l'occasione di sentirlo anche a prima pagina, quando parla non dà mai nulla per scontato, proprio il classico metodo del giornalista inglese, deve spiegare ogni volta, quindi nella sua chiarezza non è semplicità, ma fa parte del suo DNA da professionista. E da eccellente economista qual è il nostro autore, mette subito in chiaro che una delle ragioni fondamentali della crisi dell'Europa è la globalizzazione, così tanto decantata, ma che negli ultimi vent'anni ha aumentato le diseguaglianze tra i paesi europei. Quindi lui dice che l'inadeguatezza della UE, e ciascuno di voi ci metta il nome che vuole, o forza politica o leader politico, perché la UE non è una astrazione, dice che l'inadeguatezza della UE è stata quella di non aver preso le parti e aver difeso i propri cittadini risultati perdenti da questo processo di globalizzazione. Lui parte da qui ma poi affronta tutta una serie di altri argomenti che saranno ovviamente sviluppati e anche approfonditi nella discussione che abbiamo qui. Quindi intanto un grazie di cuore per la sua presenza, per la tua presenza qui, e anche per il libro che hai scritto, perché è veramente un esempio in questo momento necessario per comprendere un attimino quello che sta avvenendo. Con il nostro autore abbiamo anche due personaggi, parto dall'imprenditore Maurizio Zordain, che è amministratore delegato della Zordain SRL, che poi se voi avete visto nel foglietto è anche il nostro sponsor questa sera, come altre volte. Ma diciamo che questa impresa, perché la sua presenza, oltre alla sua sensibilità, è perché è un'impresa valdagnese di eccellenza, ma che nella figura dell'imprenditore e anche della sua famiglia ha una visione che va oltre quella che è la situazione italiana. Non per niente conosce bene la situazione europea, ma anche lui poi ha fatto il salto e adesso è presente anche nel mercato americano. Quindi una visione globale. E lo stesso alla presenza di Marco Mari, che è cofondatore di Italia Innovation SRL, nome Italia Innovation, non vi deve ingannare, perché è un'organizzazione, anche questa è internazionale, hanno una sede in America, oltre che qui a Verona, e l'abbiamo già conosciuto in altre situazioni. Quindi avete presente qui due testimoni che daranno una loro anche lettura di quello che sta avvenendo non solo all'interno dell'Europa, ma in un contesto globale. Perché se adesso noi ci pensiamo, abbiamo in mente America, Cina, Russia, forse l'elemento che manca in questo momento, in questo contesto globale, proprio il tema di questa sera dell'Europa. Quindi grazie anche a loro per la loro presenza. Ringrazio il Comune di Valdagno per averci dato la disponibilità di questa sala, come al solito ci sostiene nei nostri iniziative. Lo sponsor, non lo ringrazio tre volte, l'abbiamo già detto, e darei la parola all'assessore Magnani per un saluto. Ricordo che in fondo chi volesse acquistare il libro c'è un punto vendita e chi volesse lasciare la propria mail per essere informato delle iniziative lo può fare tranquillamente anche all'uscita. Grazie a tutti. Buonasera a voi, buonasera al nostro ospite. Vi porto, come diceva Eliseo, i saluti dell'amministrazione comunale del sindaco, che non poteva essere presente questa sera, ma soprattutto l'espressione della soddisfazione nel poter avere un ospite di questa importanza, ma anche quella di avere l'occasione di riflettere a solo due settimane dal voto sull'Europa proprio su questo argomento. Devo dire che nel leggere il libro del nostro ospite Fubini non ho trovato una pagina che non sia interessante, non lo dico per dire, ma mi aspettavo ragionamenti completamente diversi. Poi, passando da una nazione... Ci aspettavo un libro noioso, giustamente? No, è stato tutt'altro che noioso. Devo dirle che, anche se l'ho letto a partire da questa notte fino a questa sera, e quindi ne ho una memoria molto chiara, non c'è stata una pagina che non ho trovato interessante, proprio perché alcuni aspetti delle questioni europee non li conosciamo in questa maniera e probabilmente su altre questioni non abbiamo ragionato. Il suo capitolo sulla Grecia, per dirne una, mi ha fatto riflettere su quali possono essere le conseguenze in alcuni casi di azioni economiche che magari, anche se non con questo impatto, potremmo vivere, se non in Italia, in qualcuno degli stati che fanno parte della comunità, che fanno parte dell'Europa. Ma altro argomento sul quale mi è capitato di riflettere in maniera particolare è il suo capitolo su New England e quindi su quello che potrebbe, non si sa succedere, se succederà, quando succederà nella vecchia Inghilterra che ha deciso di separarsi dall'Europa. E forse di quanto sia difficile anche a fronte di una decisione di uscire dall'Europa realmente farlo. La situazione inglese io credo ce lo abbia dimostrato. Ma, e chiudo brevissimamente, l'ultimo capitolo è quello che mi ha fatto andare più in là con una riflessione calandola nella vita di tutti i giorni quando lei ci dice in realtà siamo così condizionati da tutto quello che avviene nella nostra vita che non sappiamo fino a che punto qualcun altro è padrone del nostro destino, delle nostre scelte quando accendiamo un telefono piuttosto che quando accendiamo un computer e sulla base delle conoscenze che qualcun altro ha di noi ci propone così tante volte o acquisti o modi di pensare che alla fine potremmo anche essere condizionati a farlo o ad acquistare e probabilmente un'entità come l'Europa unica a dare alcune regolamentazioni in questo settore potrebbe difendere meglio che una economia più globale i suoi cittadini. e soprattutto la sua conclusione è importante sì è vero la politica è come la definisce lei la vita politica è sempre stata dura sporca esasperante eternamente imperfetta all'interno di ogni paese e lo è stata sicuramente anche in Europa però è la democrazia la cosa più importante che abbiamo e speriamo che continui a rimanere rappresentativa concludo con questo perché in questi anni mi è capitato spesso di incontrare studenti magari in momenti di gemellaggio con i loro compagni tedeschi piuttosto che di altre nazionalità e pur nella semplicità il messaggio che abbiamo sempre cercato di portare è quello che non dobbiamo dimenticare che l'Europa è la nostra casa comune con tante imperfezioni che vanno curate che vanno corrette ma che tutto questo ci ha consentito di vivere anni di pace e che comunque non non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca ma cerchiamo di impegnarci tutti a credere che è la nostra casa e deve rimanerlo in maniera importante e migliorandola grazie e buona serata a tutti buonasera anche da parte mia e innanzitutto grazie per la vostra presenza questa sera sono certo che sarà una conversazione una serata molto interessante grazie al Guancinet per aver voluto organizzare questa serata a poco meno di due settimane dalle elezioni europee portando appunto anche grazie alla sua disponibilità qui con noi Federico Fubini nella nostra comunità penso che sia la terza volta che torni a Valdagno e insomma il mio compito è quello di coordinare questa conversazione che spero poi possa essere anche più aperta e partecipata possibile e di condividere inizialmente due piccole riflessioni che sono scaturite anche dalla mia lettura del libro il libro per me io sono io sono nato nel 1989 che anche come riporto nel libro è stata una data importante per il percorso di sviluppo dell'Unione Europea ho iniziato a avere consapevolezza politica di quello che poteva accadere attorno a me credo all'incirca attorno al 97 e 98 quando si parlava di eurotassa con Prodi questo è uno dei miei primi ricordi e leggendo il libro la prima riflessione che mi è nata è di come in questo percorso la fine relativamente veloce anche dal 91 dei trattati di Maastricht ad oggi il dibattito politico sull'Europa è passato da una fase di costruzione a una discussione sulla possibile distruzione in una maniera molto veloce senza probabilmente anche gustarci anche per me che faccio anche parte della cosiddetta anche generazione Erasmus le opportunità di gestione e di sviluppo di questa grande casa comune il secondo quindi sentimento che mi è nato è anche un senso di responsabilità e d'urgenza per quella che può essere la costruzione del futuro e la gestione di questa casa e sono davvero felice di poter condividere questo momento di riflessione sui temi del libro come Maurizio Zordan e Federico stesso in quanto per me anche rappresentano due testimoni moderni di quello che può essere il futuro di questa Europa innanzitutto Federico per me è un giornalista veramente moderno è un giornalista come anche ricordato Eliseo che in modo molto netto pulito ci permette sempre di farci un'opinione nella lettura dei suoi articoli delle sue inchieste sul Corriere devo dire anche che negli ultimi anni ho molto apprezzato da quando è tornato al Corriere anche la sua propositività nel porre nel dibattito politico dei temi importanti questo è qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno di là dei politici che ci possono porre dei temi avere anche dei giornalisti che ci consentono di utilizzare anche dati e informazioni per crearci le nostre opinioni è un'attività di democrazia veramente importante e devo dire che anche lo fa in una maniera di altissima qualità di livello internazionale i suoi articoli sono veramente potrebbero essere letti in qualsiasi lingua in qualsiasi posto per anche il taglio innovativo sulla stessa Italia che lui sa proporre al tempo stesso anche Maurizio è per me che ho imparato anche conoscere lavorando un esempio di Valdagnese imprenditore moderno perché negli ultimi anni lui i suoi collaboratori anche la sua famiglia hanno creato anche per il territorio una testimonianza di quello che può essere il capitalismo italiano contemporaneo Maurizio ha saputo cogliere le opportunità della globalizzazione di cui parla lo stesso Federico nel libro in due tempi da quello che ho capito poi magari mi correggerai la prima mossa è stata comunque attraverso Zordan sviluppare un'azienda internazionale che da un territorio come Valdagno possa guardare al mondo e operare con fenomeni e dinamiche più grandi del territorio la seconda è stata non fermarsi a quello che può essere l'export che se ne parla sempre molto anche quando ci si rivolge a nord-est perché da qualche anno ha deciso di ricreare in qualche modo la sua attività imprenditoriale all'estero e non in uno stato qualsiasi ma negli Stati Uniti d'America quindi insomma sono davvero felice con loro di poter ragionare stasera per quelli che a mio avviso potrebbero essere anche due fili rossi che almeno io ho trovato nel libro e che magari anche voi nella lettura potete trovare la prima il primo filo rosso è sull'identità su chi siamo su quella che anche Federico nelle ultime pagine del libro chiama consapevolezza e quindi anche un po' la tradizione il patrimonio su cui sediamo le opportunità che ci vengono anche date dal nostro passato e il secondo filo rosso è la responsabilità ovvero quello che concretamente possiamo fare per rendere appunto migliore questa nostra casa e questa identità di italiani e di europei che viviamo lascio subito ora la parola a Maurizio e poi a Federico per un loro primo intervento e poi un po' di scambio e apriremo a tutti grazie grazie mille ringrazio innanzitutto il guanscinet per questa opportunità e soprattutto voi che dedicate questa sera del tempo per diciamo uscire diciamo dall'impasse in cui siamo e acquisire consapevolezza io vorrei testimoniare questa sera la mia convenzione che solo i giovani la scuola e le imprese potranno tirarci e tirarsi fuori dalla pericolosa situazione in cui siamo non certo quota 100 o il decreto sicurezza che poco servono a trattenere la fuga silente di giovani formati anche dal grande Veneto del Leon 600 mila italiani hanno lasciato l'Italia negli ultimi quattro anni altro che rimpatri e dall'altra parte la consapevolezza che il senso di inferiorità che diciamo il confronto con i tedeschi che viene rappresentato anche nel libro non è corretto perché qui diciamo io quando devo fare un po' di terapia per guadagnare fiducia mi affido alle ricerche di Marco Fortis della fondazione Edison che ci ricorda che l'Italia è il secondo paese per valore aggiunto in Europa il settimo al mondo per valore aggiunto in molte nicchie di eccellenza con circa 1500 produzioni in cui siamo i primi cinque posti nel mondo e per circa 200 miliardi di dollari di surplus commerciale quindi è vero che l'Italia ha molti problemi è vero che abbiamo situazioni complesse noi abbiamo diciamo due greci in Italia perché gli abitanti del mezzogiorno d'Italia come numero equivalgono al doppio degli abitanti della Grecia e se l'Italia avesse una contabilità separata i conti per individuo di questo mezzogiorno sarebbero in linea se non peggio di quelli della Grecia con l'aggravante che noi abbiamo il sud Italia dove c'è la mafia nelle sue varie sfumature cosa che i greci perlomeno non hanno quindi quando noi ci confrontiamo con il resto del mondo dobbiamo fare anche riferimento alle situazioni da cui partiamo quindi il problema sono i migranti oppure è la criminalità organizzata che si avvale di nuove braccia per alimentare i propri sporchi traffici cioè è questo il problema o il problema è un paese che non è sufficientemente attrattivo per i propri giovani formati e che come dice Federico Fubini nel libro la formazione che si fa in molti paesi come l'Italia va poi a vantaggio di quei paesi che riescono a dare maggiori prospettive nella fattispecie la Germania con dei numeri impressionanti dal punto di vista di quanto la Germania risparmia importando risorse già formate da altri risorse che vanno via peggiorano la media del territorio da cui partono e quindi rendono ancora più difficile il fatto che questi territori possano risollevarsi però diciamo il il vero problema che è solo un problema numerico su cui ci siamo avvinghiati per molti anni che è quello del debito pubblico nasconde anche dei problemi di consapevolezza di quella che sono le diciamo le eccellenze che noi abbiamo sia dal punto di vista della scuola su cui come si scrive purtroppo nel libro abbiamo tagliato in questi anni di crisi e dove invece la competizione mondiale suggerirebbe che andrebbe maggiormente investito e diciamo una situazione di imprese che funzionano malgrado il sistema Italia e quindi diciamo viviamo in un paese dove gli imprenditori diciamo si muovono in maniera abbastanza individuale non c'è un sistema paese come la Germania io è vero che sono andato in America ma prima sette anni prima di andare in America ero andato in Cina perché avevamo aperto un ufficio a Shanghai e lì ho visto che i tedeschi insomma erano lì da parecchio tempo insomma metà delle macchine che giravano in Cina insomma erano di fabbricazione tedesca si sentiva la presenza dei tedeschi in Cina e noi diciamo che organizzavamo delle uscite un po' come regione un po' come associazioni in maniera disordinata e ovviamente queste cose qui poi alla lunga si pagano quindi diciamo abbiamo un sacco di problemi abbiamo anche un sacco di opportunità le scuole preparano le persone in maniera eccellente abbiamo eccellenze nelle imprese se non riuscissimo a fare un po' più di sistema potremmo competere senza diciamo sensi di inferiorità ecco quindi da prenditore perché diciamo in questa nuova stagione politica dell'Italia è stato coniato anche questo termine quello dei prenditori per confermare che appunto in Italia c'è una forma di diciamo non accettazione delle imprese ringrazio il penivendolo qui presente per questo acuto scritto che traccia la via di mezzo tra l'europeismo senza sé e senza mai e il sovranismo nazionalpopulista che sta montando con le sue 50 sfumature di nero allora grazie veramente a tutti e grazie a Maurizio di avermi chiamato pennivendolo perché almeno ero preoccupato che mi avrete presentato con una tale generosità che ho detto vabbè adesso quando prendo la parola posso solo deluderli rispetto a come sono stato presentato però pennivendolo riequilibria e mi mette più a mio agio però al netto di questo veramente grazie io ogni volta che vengo qua mi dico che se l'Italia fosse come Valdagno saremmo uno dei paesi non solo più forti d'Europa ma anche sicuramente più felici e più civili d'Europa ed è uno dei grandi punti interrogativi questa incredibile diversità territoriale del nostro paese che forse è anche uno dei motivi che è dietro il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro in realtà è un libro che parla dell'Europa sicuramente ma parla di noi parla di me in primo luogo ho trascorso una vita in gran parte in altri paesi europei occupandomi di altri paesi europei viaggiando per tanti paesi europei cercando di capire questo processo dunque è la mia vita non è la vita di altri non è una cosa di cui parlo per sentito dire ma e dunque ne parlo nel libro ma ne parlo perché la cosa su cui mi sto veramente interrogando riguarda noi e riguarda quella che mi verrebbe da definire la nostra crisi di identità nel rapporto con il resto d'Europa già solo se ci pensate linguisticamente dire io vado in Europa lui è andato in Europa come se l'Europa fosse qualcosa di separato da noi quando siamo un paese fondatore della comunità europea denota una confusione identitaria che è diffusa nel nostro paese i leader anche a livelli più alti di potere parlano dell'Europa come io sono andato in Europa l'Europa dice questo come se l'Europa non fossimo noi come se il diritto romano la lingua latina non fosse una parte fondamentale di questa eredità come se l'economia italiana non fosse la seconda manifattura europea allora quello che veramente da cui sono partito è questa domanda ma perché veramente se voi prendete un marziano che scende e arriva in questa sala e non capisce una parola di quello che sta dicendo è sicuro solo di una cosa siamo in Europa è evidente che io ho davanti a me dei volti di europei una sensibilità europea non potremmo essere da nessun'altra parte del mondo eppure viviamo in un paese con un grande vuoto in mezzo direi io perché abbiamo da un lato delle forze ma lasciamo perdere politiche delle forze culturali che si esprimono in mille modi si esprimono sulle reti digitali si esprimono anche nei comizi dei politici nei libri negli accenti delle persone dunque negli incontri nelle comunità in senso assolutamente sciovinista come io non ho mai sentito prima nella mia vita in senso assolutamente anti-europeo si sentono qualcosa di diverso vedono nell'Europa un'entità ostile negli altri paesi dei potenziali nemici e poi dall'altro abbiamo forse un ex establishment a questo punto di europeisti che spesso hanno incrociato le loro carriere personali con incarichi europei o incarichi permessi dall'interazione istituzionale politica o finanziaria o aziendale con il resto dell'Unione Europea che sono europeisti come non se ne trovano in nessun altro paese di questo continente sono europeisti come non si trovano pro italiani in Italia in questo modo cosa voglio dire con questo allora come giornalista mi è capitato di criticare il governo Berlusconi il governo Monti il governo Letta il governo Renzi il governo Gentiloni e adesso il governo è normale è normale perché nessun governo le può azzeccare tutte in un mondo complesso il compito del giornalista è dire ecco questa misura non sta funzionando eccetera però nessuno e né io abbiamo mai avuto il sospetto che io fossi per questo anti-italiano evidente che sono pro-italiano questo salto culturale in Europa non l'abbiamo fatto e in Italia sembra che se noi critichiamo qualunque cosa abbia a che fare con politiche europee che esistono uno è anti-europeo i nostri europeisti hanno in qualche modo sacralizzato tutto quello che viene dall'Europa che riguarda l'Unione Europea che riguarda Bruxelles rendendo tabù qualunque critica anche a clamorosi errori che sono stati fatti se volete possiamo anche scendere in dettaglio ma due o tre ve li dico subito pensate alle banche qui parlo in un territorio che con le banche ha avuto delle esperienze anche complesse però le quattro banche che sono state messe in risoluzione uguale fatte fallire alla fine del 2015 sono state messe in risoluzione perché la Commissione Europea aveva detto che l'Italia non poteva usare il fondo nazionale di tutela dei depositi che è in realtà denaro degli italiani ma non dei contribuenti italiani denaro delle banche italiane dunque in ultima analisi denaro dei clienti e degli azionisti delle banche italiane ci hanno detto che quello sarebbe stato aiuto di Stato non si poteva sono state messe in fallimento quattro banche bail-in su centinaia di migliaia di persone quello che si è suicidato ora è al di là di questo dramma personale e del dramma personale diverso di quelli che hanno perso i loro risparmi politicamente è stata una manna per i Cinque Stelle voi ve lo ricordate i Cinque Stelle nel 2014 erano mezzi morti il Malox di Beppe Grillo erano veramente in difficoltà di fronte a un governo che cercava di parlare al ceto medio ridare un attimo di senso che l'Italia si rimetteva in cammino poi con grandi errori quell'episodio lì li ha rimessi in gioco ora io non ho sentito e noi abbiamo scoperto per inciso poche settimane fa che la Corte di Giustizia Europea l'Italia ha fatto ricorso dopo quattro anni la Corte di Giustizia Europea con il morto oramai sepolto sotto terra ci ha detto che in realtà il fondo di tutela si sarebbe potuto usare e che non era un aiuto di Stato col che è aggravando le crisi bancarie alzando il costo del credito per imprenditori come lui e come tanti altri in sala grande errore che è nato scusate faccio continuo la mia parentesi perché credo che sia interessante per capire le dinamiche dell'Europa di oggi un po' ne parlo nel libro a me ricorda tanto gli anni 30 voi vi ricordate dai libri di storia o dai racconti dei vostri padri e nonni gli anni 30 perché ci fu la grande depressione perché tutti i paesi a partire dagli Stati Uniti dunque dal leader del sistema cercarono di delocalizzare scaricare il costo della loro disoccupazione sugli altri paesi e come lo facevano lo facevano un tema che sta tornando purtroppo drammaticamente attuale oggi con i Dazi l'America reagì alla sua recessione di inizio anni 30 mettendo Dazi su centinaia e centinaia di prodotti del resto del mondo nell'idea di proteggere le produzioni nazionali e dunque risollivare lo smooth holy act drammatico dell'epoca l'Argentina che allora e anche oggi esportava molti cereali reagì facendo lo stesso il Brasile facendo lo stesso arrivò in Europa tutti i miserodazzi tutti cercarono di spostare i loro problemi interni in quel caso di disoccupazione sugli altri il risultato è che i problemi invece di spostarli sugli altri si moltiplicavano e divennero molto peggiori per tutti finimmo in una depressione economica e qui torno al discorso delle banche perché trovo che uno dei problemi che anche noi italiani ma anche gli altri paesi europei stanno facendo uno degli errori che stanno facendo oggi sia applicare questo stesso modello sulla politica qual è il problema politico di tutti i nostri paesi è molto evidente abbiamo delle forze che sono contro il sistema per la prima volta non voglio entrare nella discussione se hanno ragione o non hanno ragione però se voi siete un politico e fate parte del sistema vedete una forza come i 5 stelle Kurt Wilders in Olanda Marine Le Pen i democratici svedesi che sono tutto meno che democratici i veri finlandesi Alternative für Deutschland Alba Dorata contro il sistema e voi vedete ma questi sono contro il sistema perché per esempio in Germania Alternative für Deutschland è contro il sistema perché ce l'ha col deficit italiano dice noi dovremmo pagare per loro e poi ce l'ha su un'altra cosa e qui vengo alle banche perché dopo la crisi l'Olanda ha speso il 16% del suo prodotto interno lordo per salvare le banche aumentando di tanto il proprio debito pubblico la Germania ha speso il 9-10% per lo stesso motivo noi per inciso abbiamo speso l'1,2% però l'abbiamo fatto dopo la reazione dell'opinione pubblica tedesca e olandese è stata rivolgersi ai partiti antisistema perché hanno avvertito come profondamente ingiusto che i loro soldi di piccoli operai impiegati andassero a salvare gli errori dei grandi banchieri e dunque c'è stata una rivolzione collettiva verso i salvataggi pubblici che ha generato la direttiva che di fatto impedisce i salvataggi pubblici senza colpire i contribuenti hanno detto da adesso in poi non si può più fare se non che loro l'avevano già fatto senza Bailin e a chi stava dopo a noi e dunque in qualche modo come nella grande depressione si cercava di trasferire il problema interno della disoccupazione sugli altri paesi nella grande depressione o recessione politico-democratica che noi viviamo oggi in Europa ciascun paese cerca di trasferire i propri problemi di consenso di impopolarità di populismo sugli altri paesi lo hanno fatto la Germania e l'Olanda con il Bailin lo stanno facendo i nostri governanti oggi qui mettiamo BIP nella registrazione con il tema del deficit perché è molto chiaro che aumentare la spesa corrente in deficit e il debito pubblico come sta facendo l'Italia alimenta la protesta populista in Germania o in Olanda tutti noi stiamo giocando questo scaricabarile pericoloso e questo è un tema che trovo a me del tutto evidente e credo a tutti noi abbastanza evidente completamente rimosso come dicevo dalla discussione degli europeisti italiani perché gli europeisti italiani hanno per una tradizione che nel nostro paese viene da grandi nomi persone nobili che hanno servito il nostro paese come pochi nella storia della repubblica De Gasperi Carli Ciampi Draghi Monti queste persone in modo diverso De Gasperi perché vedeva nell'ancoraggio all'Europa una garanzia che l'Italia sarebbe rimasta nel mondo occidentale all'epoca in cui il comunismo era veramente filosovietico Carli perché vedeva la deriva del debito pubblico e sperava che l'Europa fosse il vincolo esterno è una espressione di Carli Monti Ciampi per gli stessi motivi vedevano questo vincolo esterno quell'ancora che avrebbe modernizzato il paese e dunque in qualche modo poiché questo è il vincolo esterno che ci salverà non si può criticare però questo io trovo che nel mondo di oggi nel mondo dell'Italia dopo la crisi con gli shock che abbiamo attraversato e dopo vi farò vedere qualcosa su questo abbia generato un contraccolpo psicologico molto serio perché a un certo punto per diversi motivi uno perché rendere tabù qualcosa vuol dire regalare un'incredibile posizione di rendita a coloro che non riconoscono questo tabù perché hanno un'esclusiva hanno il monopolio della critica all'Europa e se voi regalate il monopolio della critica a qualunque cosa sia europeo a chi l'Europa la vuole distruggere avete fatto un favore ai vostri nemici che gli europeisti italiani non hanno ancora riconosciuto i miei amici europeisti con cui mi confronto mi guardano con diffidenza perché ho scritto queste cose perché ancora ritengono che siccome c'è il vincolo esterno che ci salverà e in parte è stato vero per molti aspetti dal 1992 quando eravamo pieni di debiti all'ultima legge finanziaria che sarebbe stata ancora più sbagliata senza l'intervento europeo dunque non è che non c'è il vincolo esterno ma non c'è neanche una discussione laica e matura sull'Europa e questa è una caratteristica italiana questo bipolarismo estremo che più che bipolarismo è polarizzazione con niente in mezzo non c'è un europeismo laico come quello che potrebbe incarnare Marco e Maurizio che l'Europa la vivono nella loro vita quotidiana non è rappresentato dai certi dirigenti italiani e questo trovo una mancanza profonda e pericolosa perché poi genera un dibattito politico che è assurdamente distorto come quello che noi vediamo ma c'è uno stadio ulteriore che ancora una volta come dire rileva più della psicologia di noi italiani che della realtà economica politica o e poi ovviamente qualcuno di voi ha visto Zelig di Woody Allen qualcuno di voi ha visto quel film fantastico dove Nino Manfredi è l'emigrante che pane e cioccolata con i baffoni che barbara poi capello fa il gol e dice che cercava di camuffarsi oppure quei film di Alberto Sordi quando lui c'è quello fumo di Londra dove lui va a Londra che è un sartino perugino cerca di sembrare più possibile inglese e allora dopo tre giorni si è fatto un completo inglese si cerca di spacciarsi per inglese e poi ai ricevimenti in società dice alla moglie non facciamoci riconoscere per quello che siamo ecco il nostro rapporto con l'Europa è un po' questo Zelig che è così insicuro io questo lo vedo l'ho visto in tanti funzionari italiani europei e dirigenti italiani che vanno a lavorare in Europa cercano di camuffarsi come Zelig che è così insicuro di sé è così percorso di un senso di inferiorità che cerca di assomigliare si avvicina al ristoratore greco gli crescono i baffoni sembra greco eccetera poi a un certo punto si innamora di questa psicologa che poi è la sua moglie come si chiamava che gli dice no tu devi essere te stesso devi essere sicuro di te e devi essere sicuro dei tuoi argomenti allora lui si sforza e la prossima volta che incontra qualcuno c'è una piccola divergenza di opinioni sul tempo che fa e prende ombrellate sulla testa la persona che dice che forse domani piove noi siamo così siamo passati da essere Zelig da italiani che quando vanno in Europa cercano di far dimenticare agli altri di essere italiani ora non faccio nomi e cognomi ma la Federica Mogherini quando è l'ultima volta che avete sentito un'intervista in Italia della Federica questo è il nostro commissario europeo l'abbiamo mandato noi con i nostri voti è sparita cerca in tutti i modi di far dimenticare al resto del mondo che lei ha questo peccato originale di venire dall'Italia questo è Zelig primo primo tempo e dunque no questo non facciamoci riconoscere per quello che siamo amore e pane e cioccolata però questa roba qua alla lunga crea un senso di alienazione psicologica perché se voi vi dicono come siete voi non va bene vi dovete crescere i baffoni come gli svizzeri al pub di pane e cioccolata dovete dicono a me sei brutto devi assomigliare a Brad Pitt allora io dico va bene cerco in tutti i modi di assomigliare alla Germania ovviamente perché il modello il principio di imitazione è quello qualche mio collega all'inizio degli anni 90 scriveva la germanizzazione era l'idea che noi avevamo un modello da inseguire e da imitare e dunque niente di quello che il modello ci raccomandava di fare sarebbe stato sbagliato ma se io devo assomigliare a Brad Pitt allora incomincio ad andare in palestra mi faccio la lampada mi tingo i capelli e dopo tutti questi sforzi e denaro speso invece di assomigliare di più a Brad Pitt il delta tra me e Brad Pitt si è allargato come si è allargato il delta fra noi e la Germania non sopporto più Brad Pitt e non sopporto più chi mi dice che devo assomigliare a Brad Pitt noi collettivamente come italiani siamo a questo stadio del percorso psicologico come ci dicono i sondaggi e i risponsi delle urne oltre che il nostro bellissimo dibattito quotidiano il principio di imitazione ha creato dei contraccolpi molto profondi a maggior ragione perché se voi ci pensate uno che dice tu devi essere più come me cioè se Marco mi dice tu devi essere più come me alla fine cosa mi sta dicendo io sono innamorato di me stesso e tu sei brutto è un po' fastidioso quando uno rivela un certo innamoramento di se stesso e dunque c'è questo senso di respingimento a maggior ragione se poi le richieste che vengono presentate non sono sempre come credevamo diciamo nell'idea del vincolo esterno nel nostro interesse per modernizzare l'Italia molte sì ma alcune in realtà riflettono il desiderio legittimo di consenso del governo che presenta queste richieste il belin delle banche rifletteva un desiderio di consenso legittimo del governo tedesco non verso gli elettori italiani ma verso i propri elettori dunque hanno costruito questa narrazione che l'Italia è spendazione e le banche italiane sono fallite quando loro non lo sanno che hanno speso dieci volte più di noi sulle banche se voi leggete i giornali tedeschi sembra che solo l'Italia ha speso soldi sulle banche ed è quel paese che spende più soldi insomma ci siamo trovati in una specie di sviluppo psicologico in primo luogo molto complesso in cui la verità non ce la stiamo raccontando a mio avviso in questo sono arrogante credo che la verità sia un po' vicina a quello che ho detto e vi posso dire che questo libro infatti c'è una signora che mi ha detto ah che piacere vedere ho detto ah finalmente qualcuno che mi dice che piacere vedermi perché mi sto prendendo pesci in faccia da tutti che è un buon sintomo diciamo non solo da una parte ma da tutte le parti ecco questo è un po' il motivo che mi ha spinto a scrivere il libro sono le cose che ho cercato in maniera meno ridicola di come ho fatto adesso in maniera diciamo più corretta anche come italiano di raccontare e insomma poi vi volevo far vedere alcune cose se c'è un altro giro grazie sì io ascoltandovi mi sono ottimmente tre domande partirei da una poi magari se anche tu vuoi aggiungere qualche dato e elemento in più anche dai saggi del libro la prima la farei a Maurizio per poi aprire a Federico che comunque è su un tema che viene affrontato nel libro proprio nei primi capitoli si parla di come la Germania che hai citato è stata capace di meglio interpretare ciò che stava accadendo in questi anni e quindi di volgere insomma tutta la dimensione di crescita europea a proprio favore interpretando meglio la globalizzazione questo come descritto però poi chiederei appunto a Federico di spiegarlo ha creato come minimo una sofferenza del certo medio se non una drastica riduzione e Federico per alcuni paesi presenta come proposta come anche quasi richiesta da parte dell'Italia nei confronti dell'Europa quella che potrebbe essere l'introduzione di un salario minimo di lavoro per in qualche modo creare un mercato del lavoro omogeneo in tutto e per tutto e non solo in tutti i tipi di tutelle dinamiche e funzionamento sono molto interessato della tua opinione da imprenditore su questo tema e anche nel domandarti e nel domandarci se un tema di questo tipo può avere senso a livello europeo e anche in Italia vista la disparità anche di salario minimo netto che pochi giorni fa anche sul Corriere hai descritto dicendo appunto che ci siamo bruciati e giocati il boom economico diciamo quella del salario minimo come viene messa in evidenza dal libro descrivendo i paesi Ungheria Polonia e Repubblica Ceca come la Cina europea e quindi con stipendi mensili che corrispondono a qualche unità oraria degli operai tedeschi è diciamo una disparità abissale per paesi che fanno parte della stessa confederazione anche in America esistono esistono i salari i salari minimi vengono definiti dagli stati e ci sono delle differenze anche in America tra uno stato e l'altro però non sono di queste proporzioni ovviamente la contiguità territoriale favorisce un paese come la Germania che prima diciamo si è avvantaggiato in unificazione da Germania all'est e poi diciamo è steso questo ad altri paesi oltre a questo aggiungerei anche la disparità fiscale dove diciamo i paesi dell'Alde sono degli ottimi interpreti no perché sai la FCA ha messo la sede in Olanda non perché diciamo non c'erano noi salite per le macchine insomma no in Olanda ma perché perché le tasse sono più basse insomma no come tante altre quindi è quella del salario è una grandissima disparità e quindi diciamo un salario europeo andrebbe introdotto ma anche l'armonizzazione fiscale tra gli stati insomma nella mano che si vede nel libro che si allarga ci ricordiamo insomma che eravamo insieme all'Irlanda nei PIGS poi l'Irlanda diciamo è cresciuta ma sostanzialmente cos'è che ha fatto è diventato un paradiso fiscale cioè noi fatturiamo ai marchi del lusso che hanno le sedi in Irlanda insomma ma come ce le hanno le grandi corporation no questa cosa qui diciamo è un po' giocare non con le stesse diciamo con le stesse condizioni non è un gioco corretto e quindi già ci sono molte disparità nel mondo di giochi scorretti quindi abbiamo un competitor potente che ha diciamo usato diciamo le leggi del capitalismo in salsa comunista e ha creato un mix micidiale che ha è vero tirato fuori centinaia di milioni di persone dalla povertà nel suo paese che è uno diciamo degli effetti positivi della globalizzazione ma dall'altra parte diciamo il ceto medio dei paesi occidentali cioè ne ha ne ha perso e non solo in Europa anche in America insomma sono trovati quindi già noi che dobbiamo affrontare queste disparità e queste diciamo diverse al di fuori di quello che è il recinto europeo non possiamo immaginare che dentro in Europa ci siano queste queste differenze ecco poi quel numero che viene citato nel libro cioè i 200 miliardi di euro che la Germania ha risparmiato di formazione importando persone formate da tutti i paesi e compresa l'Italia è un numero impressionante perché questa cosa qui diciamo andrebbe mitigata non può esistere all'interno di una confederazione come quella europea una situazione di questo genere ecco queste qui le vedo come le cose più importanti è vero anche che la stessa misura diciamo anche l'Italia ha delle ingiustizie al proprio interno si discuteva prima sul fatto che i salari sono uguali per ad esempio per chi lavora nella scuola che insegni a Caltanissetta o che insegni in centro a Milano dove evidentemente i costi della vita sono molto diversi quindi abbiamo anche noi queste ingiustizie nel nostro paese però ecco non sono paragonabili alla differenza tra l'operaio ungherese e quello tedesco insomma all'interno poi della stessa casa automobilistica neanche diciamo a differenza di che siano sub fornitori ecc e poi anche l'aspetto fiscale che impedisce a questi paesi insomma di crescere io io sì è da tanto che questi paesi sono entrati in Europa il fatto che ci siano queste disparità salariali non è una cosa che è accettabile per un disegno europeo insomma capisco che ci possa essere un periodo di armonizzazione ma siamo a differenze di multipli che non che non possono stare insieme in un diciamo contesto che ha le stesse regole che ha gli stessi diciamo obiettivi di welfare che ha lo stesso obiettivo di istruzione quindi questa cosa qua secondo me è veramente una cioè io prima di leggere il libro non pensavo che le differenze fossero così così elevate poi mi c'era il resto della domanda era solo questo o sì e se secondo te al di là del contesto europeo proprio in Italia l'introduzione so che comunque anche 5 Stelle Zingaretti stanno cercando delle convergenze non lo so ma se a tuo avviso anche nel mercato interno è un tema importante allora è la discussione che si fa in questi giorni sui rider cioè se ha senso avere un salario minimo che definisca un minimo orario per questi nuovi lavori o se sia più opportuno avere delle garanzie contrattuali simili a quelle degli altri lavoratori perché poi diciamo non tutto si diciamo è tramutabile in soldi noi sappiamo che nel nostro occidente abbiamo affinato negli anni e da questo punto di vista l'Europa e qui vengo diciamo anche alla fierezza di essere europei perché all'interno d'Europa a parte questi nuovi paesi che sono entrati nuovi insomma già da un po' che sono entrati e che hanno garanzie inferiori rispetto a a quelle che hanno insomma in Francia Germania in Inghilterra e anche in Spagna e in Italia cioè l'Europa a mio cioè io che sono stato in America e che sono stato in Cina cioè l'Europa ha un primato dal punto di vista dei diritti cioè delle tutele per i lavoratori e anche il sistema sanitario quindi questa cosa qui è una cioè noi dovremmo essere come si può dire fieri di questa supremazia che abbiamo dal punto di vista di questi aspetti qui quindi sicuramente i soldi aiutano però anche in America tu pensa che cioè noi ci sono quando noi siamo entrati in aziende in America le persone avevano c'erano persone con uno stipendio di 12-13 dollari e senza assicurazione sanitaria cioè in America senza assicurazione sanitaria cioè cioè non so ieri sera Calenda ha detto cioè che sua moglie ha avuto quel problema lì le cure che ha avuto la sua moglie in America sarebbero costate un milione di dollari ecco cioè queste sono le cifre no perché poi noi non vediamo questi aspetti qui che non si vedono come non vediamo i giovani che vanno via non vediamo questi aspetti qui che se poi uno ti presenta il salario minimo può essere un tema ma bisogna capire anche diciamo se ci sono gli altri diritti quindi diritti legati alle ferie la malattia ai permessi gli straordinari pagati cioè questi aspetti qui che se no fanno comunque anche dei lavoratori con un salario minimo dei lavoratori di serie B insomma cioè quindi diciamo quei soldi non è che si che bastano insomma è anche il contorno in cui siamo abituati a vivere noi che secondo me è una cosa che noi dobbiamo difendere a tutti i costi e che dobbiamo anzi imporre ai paesi che non hanno queste cioè il tema dei dazi no cioè il dazio economico che è una roba vecchia come il cuco come dici tu no che già cioè invece diciamo sarebbe da introdurre un dazio sociale un dazio ambientale questi sarebbero secondo me i dazi che l'Europa potrebbe introdurre che sono molto più subdoli però sarebbero molto più efficaci e diciamo obbligherebbero anche il resto del mondo a creare un mondo migliore perché secondo me noi dobbiamo essere fieri di essere europei per il livello di diritti che abbiamo avuto e non dovremmo diciamo pensare di smontare il nostro sistema di diritti per adeguarci agli altri che non ce l'hanno dovremmo anzi dire agli altri guardate che siete voi che dovete acquisire il nostro livello di diritti altrimenti noi da voi non compriamo più niente questo possiamo mettere su una slide volevo farvi vedere una slide si vede? no come si fa? ecco ecco allora qui questa è una versione vi spiace se mi alzo perché così mi sentite? ok allora ok facciamo così allora no forse mi sentite è vero? se parlo così va bene ok allora questo grafico una versione di questo grafico l'ho messa nel libro questo vabbè questo cos'è? diciamo si potrebbe dire che questo è il tenore di vita di otto paesi d'Europa occidentale che hanno avuto più o meno la stessa storia storia economica cioè si sono sviluppati allo stesso tempo e di un paese che ho preso come simbolo dell'Europa centrale orientale che è la Romania gli otto paesi che ho preso sono il Belgio la Germania la Finlandia la Francia Gran Bretagna Italia Olanda e Svezia poi quello che c'è sotto che voi vedete è la Romania siamo dal 1970 al 2016 ok allora questo grafico è in una versione leggermente diversa nel libro questo è solo preso proprio da una banca dati e l'ho prodotto questo grafico la banca dati per chi si occupa di queste cose è del Madison Project Database che mostra il reddito dei vari paesi espresso in dollari costanti cioè sempre uguali nel tempo come potere d'acquisto è in parità di potere d'acquisto cioè cerca di armonizzare quello che un dollaro o un euro può comprare nei diversi paesi ovviamente quello che un dollaro compra in Romania non è quello che un dollaro compra in Svezia ma in questo studio è come se lo fosse dunque e questo dunque dà l'idea del tenore di vita dei diversi paesi allora cosa vedete vedete la storia delle nostre vite perché voi vedete che l'Europa in realtà fino a un periodo molto lungo che va dal 1970 noi italiani siamo questo verde che non avevamo finito la nostra convergenza diciamo del miracolo cosiddetto miracolo economico poi siamo entrati nel gruppo e poi per un periodo molto lungo l'Europa era costituita da questo grande eccetto medio che condivideva la propria storia di crescita del reddito tutti insieme dunque di questi otto paesi dal più ricco al più povero diciamo poi stiamo parlando del reddito medio dunque stiamo parlando delle persone che stanno nel mezzo se l'Italia ha 60 milioni quello che sta proprio nel mezzo della distribuzione sociale il classico persona del ceto medio il reddito tra il più ricco e il più povero di questi otto c'era una differenza di 100 euro 150 euro 3% guadagnavano poco meno di 20 mila euro nel 1970 guadagnavano tutti poco meno di 30 mila euro nel 1989 la caduta del muro poi cosa vedete ovviamente la Romania è qua poi ci vengo dopo alla Romania però cosa vedete vedete che in realtà diciamo la mia metafora preferita quando parlo di questo fenomeno immaginate dei pianeti che stanno ruotando insieme nello spazio e questi sono questi otto paesi non ho messo la Spagna al Portogallo perché sono arrivati dopo a questa forma di modernità perché sono usciti dopo dalle dittature o la Grecia o l'Irlanda anche per certi aspetti che aveva la tutela coloniale inglese hanno avuto storie diverse però questi paesi come pianeti che ruotavano insieme nello spazio che vengono colpiti da una serie di meteoriti che li attraversano la loro traiettoria uno dopo l'altro quali sono questi meteoriti la caduta del muro di Berlino e dunque l'ingresso di 100 milioni di persone nel nostro spazio economico a questo livello di reddito qua che in realtà è anche più basso perché qui stiamo parlando di parità di poteri d'acquisto in realtà sarebbero molto più vicini allo zero in termini di costo del lavoro la rivoluzione digitale l'euro l'ingresso della Cina nell'organizzazione mondiale del commercio 2001 dunque l'ingresso di un miliardo di produttori a dei costi ancora inferiori a questi la rivoluzione dell'automazione la grande crisi finanziaria ne ho detti sei potrei continuare ma questi sono i sei meteoriti più grandi che hanno colpito questi pianeti che ruotavano insieme e cosa succede che le superfici gli angoli le forme di questi pianeti sono diversi le traiettorie di questi pianeti dai meteoriti dai quali vengono impattati vengono deviati in maniera diversa alcuni di questi paesi come dire sono molto meglio piazzati di altri e molto meglio più in grado di altri di cogliere gli aspetti di opportunità che vengono da questi shock che siano shock europei 89 euro o shock internazionali altri paesi molto meno e dunque voi vedete che questi paesi c'erano 142 euro fra il reddito medio del più ricco e il reddito medio del più povero prima di pagare le tasse al mese cosa vuol dire questo? che si potevano comprare le stesse cose avevano lo stesso tenere di vita erano lo stesso certo sociale capivano il mondo nello stesso modo e quando è così andare d'accordo è molto più facile e andare d'accordo all'insegna non della polarizzazione ma della moderazione questi sono gli anni del centrismo del centro-sinistra del centro-destra della moderazione e dell'integrazione europea in cui ci riuscivamo tra paesi a metterci d'accordo anche su passi così complessi come potevano essere l'euro il mercato interno eccetera andando avanti voi vedete che se arrivate al 2016 fra il più ricco che in questo caso è l'Olanda e il meno ricco che in questo caso indovinate chi è siamo noi mentre c'erano 100 euro qua là ci sono 1100 euro al mese tra la persona che sta nel mezzo in Italia e la persona che sta nel mezzo in Italia e in Olanda non sono più lo stesso eccetto sociale dunque hanno una percezione della realtà diversa sono in una sorta di lotta di classe intra-europea fra paesi ed è quello che cercavo di dirvi prima per esempio sulla questione bancaria sui pregiudizi che si sono costruiti fra di noi ora sicuramente noi non questo territorio evidentemente ma noi come paese non eravamo come gli altri in condizione di come dire prendere i punti di forza di questi meteoriti che ci impattavano l'euro per certi aspetti è un punto di forza fondamentale perché chiediamolo agli imprenditori permette con la stabilità monetaria di pianificare gli investimenti molto più a lungo termine dunque di aumentare una produttività in modo virtuoso però ha anche punti di debolezza per un paese come l'Italia perché questo è uno dei tabù che gli europeisti non ci hanno mai raccontato ve lo dico io ma è una banalità la lira nei 18 anni oggi siamo da 20 anni diciamo nell'euro nei 18 anni prima di entrare nell'euro dopo di fissare la parità la lira aveva svalutato del 52% sul marco dunque noi avevamo un sistema abituato a un funzionamento profondamente diverso quello che non abbiamo capito è che la ginnastica di adattamento al nuovo mondo avrebbe dovuto essere molto più profonda nella società italiana che non vuol dire fermate il mondo voglio scendere voglio tornare al mondo di prima vuol dire che abbiamo sottovalutato la complessità mentre altri paesi non hanno sottovalutato la complessità dunque per esempio questo è uno shock dunque per esempio il tema della globalizzazione cinese mi spiace ma il fatturato della Germania in Cina è di 93 miliardi il fatturato dell'Italia in Cina è di 13 miliardi la Cina per noi vale come l'Austria che è un grandissimo paese per carità ma non è proprio grandissimissimo per dire come non siamo stati capaci di vedere le opportunità mentre avevamo un tasso di sovrapposizione di gamma produttiva con la Cina che era il più alto dell'Unione Europea cioè avevamo il paese che era più in competizione con la Cina per gli stessi prodotti dunque siamo stati impattati negativamente ed eccolo là per non parlare della digitalizzazione o dell'automazione per la quale cosa serve serve una forza lavoro istruita e noi abbiamo anche fra i giovani purtroppo ce lo siamo detti parlando tante volte ma del mio ultimo libro per chi c'era abbiamo il tasso di laureati anche fra i giovani 25-34 anni più basso d'Europa con la Romania cioè eravamo non siamo stati in condizione vuol dire che chi era in condizione era solo virtuoso no no perché questo dato dell'Olanda ora non c'è qui l'Irlanda ma questo dato dell'Olanda è dato anche non solo dalle indubbie capacità e la lucidità degli olandesi che non si discute ma è dato anche molto meno miopi di noi dal fatto che sono diventati un paradiso fiscale altro tabù dei nostri europeisti vi dico vi do delle cifre che sono impressionanti parlando di multinazionali l'utile per dipendente delle multinazionali in Olanda sapete quant'è 250 mila euro utile utile netto in Germania 10 mila euro sono cassette delle lettere e ci sottraggono decine di miliardi di base fiscale tutti gli anni a noi italiani a noi europei le multinazionali farmaceutiche hanno un fatturato ufficialmente in Olanda che è tipo sei volte il fatturato che hanno in Italia ma momento l'Olanda è meno di un terzo come popolazione dell'Italia possibile che sono tutti malati in questa maniera e hanno una redditività in Italia una redditività buona normale 5,6% netta in Olanda 31% sostanzialmente il fatturato che fanno in Italia in Francia in Germania riemerge in Olanda ora questo è una forma di cavalcare la globalizzazione ma una forma profondamente scorretta e qualcos'altro che non ci dicono gli europeisti tradizionali e che non è possibile che l'Olanda e l'Irlanda prendano posizioni intransigenti rifiutando qualunque forma di solidarietà o rifiutando per esempio il bilancio della zona euro per ammortizzare gli shock che dovessero colpire questo o quel paese o proponendo sostanzialmente il default dell'Italia cioè trattarci come la Grecia mentre ci rubano questi due paesi 150 miliardi di base fiscale tutti gli anni all'Unione Europea e non solo all'Italia che vuol dire l'Italia è il 15% dell'Unione Europea fate voi conti dunque potremmo con diciamo la base fiscale sottratta dall'Irlanda o dall'Olanda cercare di rafforzare l'investimento in istruzione nel nostro paese perché no e dunque noi dovremmo dire se avessimo dei governi non solo questo attuale ma avessimo avuto anche in passato dei governi capaci di non solo difendersi e non solo cercare di ottenere strappetti alle regole per questo bonus quell'altro bonus quel gruppo di elettori quell'altro lobby di interesse ma fossimo stati capaci di costruire un'alleanza avremmo dovuto dire all'Olanda noi parliamo di rigore dei conti risanamento fiscale ci fa piacere che voi siate preoccupati perché noi non sempre abbiamo avuto dei ceti dirigenti che si preoccupavano della sostenibilità fiscale però ogni volta che si parla di una misura di risanamento della finanza pubblica si parla anche di una misura di lotta dell'evasione fiscale perché noi italiani non possiamo andare ai nostri piccoli imprenditori a dire che devono smettere di evadere le tasse perché alcuni lo fanno quando le multinazionali evadono dieci volte di più è politicamente insostenibile e avremmo dovuto cercare di costituire un'alleanza attorno a questi temi cosa che non abbiamo fatto è qualcosa che cerco un po' di raccontare nel libro e questo è un modo è un esempio di quello che anche Maurizio diceva poco fa di paesi che sicuramente si sono messi per molti aspetti realmente virtuosi e intelligenti e lungimiranti in condizione di cogliere le opportunità in questo processo di globalizzazione interno europeo e più largo ma anche estrarre un sacco di valore dall'Europa in maniera non sempre virtuosa e allora qui vengo all'esempio della Germania che è un altro esempio la Germania non è un paradiso fiscale ma guardate la Romania allora vi do un po' di cifre quando sempre in questa definizione di poteri d'acquisto dunque che non sono i soldi reali quando i paesi d'Europa centrale orientale entrano diciamo nel nostro mondo nell'89 e il loro tenore di vita diciamo guadagnano cioè noi siamo il 60% sopra dopo dieci anni noi siamo il 65% sopra perché la transizione ha distrutto la loro economia precedente con delle cure shock e questo è il punto fondamentale privatizzazioni molto forti e lo capisco e anche tutti si lavora al salario minimo legale cioè il salario che determina il governo è il salario che vale nelle fabbriche non c'è contrattazione delle condizioni di lavoro non si negozia nel salario si lavora in base al numero che c'è nella legge e questi numeri sono nella gran parte dei paesi d'Europa centrale orientale ancora oggi sotto i 500 euro e noi abbiamo il 20% e più della forza lavoro in 10-11 paesi dell'Unione Europea dove si lavora così e ovviamente se la base è questa tutta la struttura si basa su questa base molto bassa e allora 65% dopo altri 10 anni 55% dopo altri 10 anni adesso che sono passati 30 anni da quel momento sono del 42% in meno ma se poi guardate voi guardate quello che interessa che conta veramente per le persone in carne ed ossa non sono le percentuali ma i soldi che avete in tasca rispetto ai soldi che ha in tasca il vostro vicino e allora la differenza in termini di cash era 14.000 dollari costanti nel 89 oggi è 17.000 dollari e ovviamente poi in termini non correnti ancora di più cosa vuol dire? vuol dire che se voi siete un giovane che sta crescendo in Ungheria o in Romania o in Bulgaria e avete un po' di ambizione prendete vi mettete le scarpe e andate via sono andati via talmente tanti che la Bulgaria ha perso il 30% della popolazione la Romania il 20% l'Ungheria il 10% quelli che rimangono indietro sono i più chiusi i più retrivi i più conservatori che eleggono gli Orban i Kaczynski che eleggono questi governi profondamente reazionari antidemocratici e dove vanno? sono andati molto in Inghilterra poi la Brexit non è il tema in parte di stasera non vi voglio far perdere tempo sulla Brexit vanno molto in Germania allora io mi sono fatto un conto sulla base dell'ufficio statistico tedesco l'afflusso netto dalle periferie europee alla Germania negli ultimi 10 anni di persone età media 30 anni in media 40% laureati è stato netto e al netto di quelli che sono andati via 2,7 milioni di giovani metà uomini metà donne che hanno compensato completamente la caduta demografica tedesca che la Germania anche per motivi storici ha iniziato a avere più morti che nati nel 72 primo paese al mondo e in quel periodo ha perso 1.600.000 persone di saldi naturali per effetto del saldo nati morti e si è rifatta completamente con le persone che venivano portatrici di istruzione e se uno va a fare il calcolo in base ai dati OX del costo di produzione di un laureato beh l'investimento in istruzione che è andato in queste persone che sono andate in Germania è di oltre è un calcolo molto cauto che ho fatto ma è di oltre 200 miliardi che ovviamente è l'opposto della percezione tedesca se voi chiedete a un tedesco noi stiamo pagando per loro lui ti dirà noi non vogliamo pagare per voi dunque è un modo di estrazione di valore ma perché dico che è un modo di estrazione di valore ho fatto l'esempio dell'Audi l'Audi nel 2006 ha fatto un accordo col governo ungherese gravi fiscali cioè ha detto al governo ungherese Audi gruppo Volkswagen io apro qui una fabbrica che fa il 2% l'1,5% del prodotto interno lordo ungherese do il lavoro a 13.000 persone quante tasse mi fai pagare? zero ovviamente se no vado da un'altra parte zero Audi paga zero 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 tasse su profitti effettivi costruisce a Ghior in Ungheria occidentale i motori delle Audi che poi mette sui camion 595 km di autostrada bellissima costruita con i fondi europei arriva in Baviera Ingolstadt dove vengono assemblati nelle auto insomma come si dice esatto nei telai delle auto e poi vengono esportati allora l'operaio Audi l'operaio Volkswagen il costo lordo orario in Germania è 48 euro lordo eh o l'ora il mensile di base dell'operaio di Ghior dopo un aumento del 18% di quest'inverno è intorno ai 250 euro il che vuol dire che stiamo parlando di due colleghi dello stesso gruppo dello stesso livello di produttività che vuol dire che il mensile di base dell'operaio ungherese sono 5 ore e 10 minuti del costo giornaliero del suo collega tedesco e ovviamente il collega tedesco può avere 48 euro perché il collega ungherese ha 250 euro al mese e paga zero tasse ovviamente può pagare zero tasse senza che questo sia aiuto di Stato perché l'Europa la Commissione Europea prevede delle eccezioni al regime di aiuto di Stato per la convergenza economica ma qui invece di convergenza economica degli ungheresi c'è la convergenza di capital gain degli azionisti della Volkswagen o il caso della BMW che io trovo fantastico la BMW è andata da Urbana e gli ha detto è andata in Slovacchia e poi è andata da Urbana e poi è andata dai polacchi gli ha detto io voglio aprire un impianto per fare un investimento di un miliardo faccio qui delle BMW è andato agli Slovacchi voi che sgravio fiscale mi fate 35% è andata da Urbana la Slovacchia mi ha detto 35% voi cosa mi fate 50% gli fa 50% e gli costruisce con i soldi del governo ungherese il luogo dell'impianto glielo pulisce un investimento di 80 milioni e dove poi allora non solo la BMW ha detto Urbana però un momento voi state perdendo popolazione continuate a andare continuano a andare in Germania incomincia a esserci piena occupazione e si fatica a trovare mano d'opera in Ungheria dunque ho bisogno di garanzia che la mano d'opera ci sia e come posso avere questa garanzia facciamo una legge sugli straordinari obbligatori per cui una persona deve fare obbligatoriamente un'ora e mezzo al giorno di straordinario obbligatorio pagabile tra tre anni in modo che sono sicuro che la persona non va via e forse tra tre anni se non vai via e Urbana gli ha detto va bene va bene e ovviamente nel frattempo mentre stava negoziando il lotto di terra dove doveva sorgere la fabbrica Debrecen l'aveva già comprato un amico di Urbana che l'ha venduto a un prezzo maggiorato al comune e poi i lavori di sterramento sono stati affidati a un altro amico di Urbana che è un altro magnate ungherese che presta l'aereo a Urbana per andare a vedere le partite della Coppa dei Campioni tutte le settimane dunque c'è un'elite estrattiva locale che si lascia imporre le condizioni dalla BMW che va lì e paga meno tassi di quanto paga Maurizio a condizioni incredibili e se non è estrazione di valore questa che cos'è estrazione di valore e con l'effetto politico e questo è il mio punto al quale veramente tengo di svuotamento del ceto medio ma svuotamento del ceto medio a est perché il ceto medio si mette le scarpe e va via a cercare di diventare il ceto medio da un'altra parte e del ceto medio a ovest perché parlavo con va bene adesso so che la gente ci va meno in Romania ma parlavo con un imprenditore indovinate un po' che fa le pentole a 13 piccole e medie imprese in Veneto avete già capito chi è io sono molto legato al territorio e non andrò mai via ma i miei figli hanno messo i conti una di queste aziende fa 400 mila euro di utile pulito dopo le tasse hanno messo dentro questa azienda il costo del lavoro polacco le tasse polacche sono venuti 7 milioni e mezzo dunque mi posso già immaginare cosa succede quando l'imprenditore va in pensione e i figli prendono la gestione dunque è una minaccia sul ceto medio in occidente e come dice Maurizio noi non possiamo avere questi squilibri e questi squilibri derivano dalle istituzioni economiche che al momento dopo l'89 era il momento della fine della storia l'occidente che domina il mercato che è perfetto che si riequilibria salario minimo per tutti però salario minimo per legge quello lì che dicevo prima noi dobbiamo e secondo me come Italia dovremmo porre il problema i tedeschi non ne vogliono sentire parlare anche loro devono poter negoziare perché non c'è convergenza non c'è convergenza sociale anche loro devono poter negoziare o a livello nazionale settoriale o a livello aziendale ma non possono lavorare in questo modo che non è vada bene io non ho proposto il salario minimo Macron ha cercato di mettere un dito nell'occhio alla Merkel ha proposto il salario minimo a Est secondo me è una risposta un po' dirigista noi dobbiamo solo dire devono poter fare come noi da noi si negozia il salario per riflettere la produttività se voi vedete la parte dei salari nel reddito di quei paesi è intorno al 50% il 55% da noi è 60 62 63 e non solo la Romania diciamo facendo il costo del lavoro in Francia pari a 10 e la Romania sono a 1,5 e non solo ma sono a 1,5 da 10 anni non c'è convergenza in alcuni casi di questi paesi la distanza negli ultimi 10 anni aumentata non è diminuita proporzionale io trovo che sia uno scandalo i tedeschi non vogliono che se ne parli io trovo che noi come italiani europei avremmo autostrade per creare alleanze su questi temi ma non lo facciamo perché siamo nella crisi di identità di cui parlavo prima fra l'altro aggiungo che i visegrad lì Polonia Ungheria e Romania costano all'Europa 15 miliardi di differenza tra quanto versano dalla UE e quanto ricevono dalla UE quindi questi paesi che diciamo hanno un atteggiamento anche molto come si può dire polemico nei confronti dell'Europa e del far parte d'Europa ci costano 15 miliardi all'anno come altri europei che versano e non sarebbe male se a suo tempo ci fosse stata anche qualche RSU nelle fabbriche cinesi diciamo per completare il quadro sui diritti insomma magari prima di passare le domande vi chiederei un veloce commento su tre punti che sono emersi da quanto avete appena evidenziato riguardo a delle narrative sulle politiche che il libro a mio avviso mette un po' in discussione rispetto a quanto anche politici italiani o europei hanno professato negli ultimi tempi il primo punto è su i cervelli in fuga ricordo Renzi quando era al governo diceva lasciamo pure andare i giovani italiani perché poi torneranno e ci porteranno un sapere più strutturato più consapevole della globalità tuttavia mi ha molto colpito che negli ultimi quattro anni come diceva Maurizio anche in apertura sono usciti dal nostro paese con immigrazione l'1% della popolazione italiana scusami se ti interrompo in realtà anche di più però non si vedono nelle statistiche perché le persone vanno via ma non si cancellano a volte perché non perdono tempo ad andare in comune a cancellarsi a volte perché vogliono mantenere l'accesso al sistema sanitario e dunque però se voi per esempio per dirlo concretamente secondo l'istat nell'ultimo anno registrato gli italiani che sono andati in Germania a 17.000 secondo l'istituto statistico tedesco gli italiani che sono arrivati in quell'anno a 64.000 dunque l'effetto è molto più alto ecco quindi su questo insomma anche sulla base delle vostre prospettive vi domanderei se a vostro avviso vanno o scappano da un sistema che magari ritengono anche inefficiente e inadeguato alla propria prospettiva personale e di carriera il secondo punto invece sulle ideologie anche su questo tema specie credo di 5 stelle prima anche della campagna elettorale dello scorso anno professavano la fine delle ideologie non c'è più la destra non c'è più la sinistra tuttavia ideologia è una parola che ho ritrovato nel libro quando ti riferisci ad Orban e un po' forse anche a Salvini in quanto e questo anche mi ha un po' colpito da un lato parli di guerra civile nel dibattito politico e poi comunque definisci la retorica e la politica sull'immigrazione un'ideologia su questo io mi domando se a tali ideologia se poi è anche meglio descrivere è per caso necessario che anche si possano sviluppare di ritorno delle ideologie di risposta e se queste stanno a tuo avviso emergendo la terza domanda che si lega al tema dell'istruzione e più in generale dei servizi di cui parlava anche Maurizio è rivolta alla spesa pubblica sulla spesa pubblica negli ultimi anni insomma è sembrato che in modo anche piuttosto egemone taglio della spesa pubblica taglio della spesa pubblica l'unico tipo di obiettivo possibile tuttavia nel libro ci sono dei cenni che a volte a quanto ho capito il taglio della spesa pubblica to cure non è necessariamente un bene e su questo mi è tornata in mente anche una delle tesi utilizzate dall'ex ministro delle finanze greco Varoufakis nel libro che ha scritto lo scorso anno adulti nella stanza riguardo al fatto che si scontrava molto sull'idea del taglio della spesa pubblica post crisi in quanto sostiene che tagliare la spesa pubblica comunque crea anche un deficit economico in termini di dinamicità e di lavoro e di di attività dell'economia stessa quindi anche sull'istruzione in particolare modo la mia domanda è se a vostro avviso il ritorno degli investimenti nell'educazione del paese debba essere qualcosa trainato ancora dal pubblico o da attori privati come pare che anche nel territorio sta iniziando a palesarsi chiederei insomma come volete su queste domande di dire la vostra per poi aprire la conversazione a tutti hai sollevato i temi talmente grandi che veramente andiamo alle due di notte vado per titoli e mi scuso per la per la brevità però poi se ci sono delle domande ci torniamo i giovani che vanno via io penso che non dobbiamo avere paura dei giovani che vanno via noi dobbiamo avere paura di un paese che non è attraente per i giovani che è diverso un paese che è attraente per i giovani che gli sa dare un posto gli sa dare un posto nelle aziende nelle università nel mettere su famiglia è un paese dove poi i giovani torneranno oppure verranno giovani da altri paesi europei e dunque noi non dobbiamo avere paura dei giovani che vanno via dobbiamo avere paura di un paese che non è per giovani che è una cosa diversa la circolazione delle persone è giustissima dobbiamo essere metterci in condizione che dei tedeschi vogliano venire qua dei francesi ma perché no se i nostri vogliono andare via e poi tornare io sono stato un disoccupato è andato fuori poi per una serie di circostanze anche fortunate sono tornato dopo dieci anni ma credo che diciamo di essere stato un professionista migliore per la mia esperienza adesso dunque non ci vedo niente di male mi ha molto colpito vedere un sondaggio in cui per la prima volta gli italiani fatto da YouGov per la European Council che fa vedere che per la prima volta ci sono più italiani che si dichiarano preoccupati dalla emigrazione dei loro connazionali che dalla immigrazione degli stranieri e addirittura il 52% in questo siamo record in Europa fra i paesi dove è stato fatto il sondaggio sarebbero a favore di misure per impedire i loro connazionali la gente ha paura di perdere i figli di perdere gli amici di restare in quartieri che diventano anziani con case vuote con i negozi che chiudono non credo che la risposta sia chiudersi la risposta credo che debba essere cercare di essere attraenti ideologia a me ricorda siamo tornati in una guerra civile fra ideologie in Italia come ci può essere stata forse solo nella prima parte della guerra fredda per cui c'è una polarizzazione estrema i filoamericani i filo sovietici oggi gli anti-europei gli europeisti e i critici con niente in mezzo le guerre ideologiche sono guerre che prescindono dai fatti la classica la polarizzazione è un famoso articolo di alcuni psicologi americani che nel 79 hanno fatto vedere a due gruppi uno a favore della pena di morte un altro contro la pena di morte un articolo in cui si raccontano dei fatti sulla pena di morte e dopo la lettura di questo articolo chi era contro la pena di morte era ancora più contro la pena di morte e chi era a favore della pena di morte era ancora più a favore della pena di morte questo è la polarizzazione l'ideologia che di fronte alle stesse evidenze le persone si radicalizzano e quando si radicalizzano non c'è più ceto medio non c'è più moderazione ci sono emozioni ma le emozioni per le decisioni della vita collettiva spesso non sono sono utili ma non non veramente utili serve la ragione molto di più e dunque sono molto diffidente delle ideologie e ho scritto questo libro perché vorrei aiutare a superare un dibattito ideologizzato per adesso fallimento totale purtroppo per quanto riguarda il taglio della spesa dico solo una cosa e questo è un altro tema su cui noi italiani avremmo avuto il dovere di cercare di costruire delle coalizioni in Europa perché ci sono ma non lo dicono quelli che la pensano come sto per dire non lo dicono perché non lo vogliono dire da soli di fronte alla Germania se noi come area euro avessimo speso durante il quantitative easing della BCE che ha portato a zero i tassi di interesse a dieci anni per certi paesi e di fatto in termini reali negativo meno due se noi avessimo investito in termini di investimenti pubblici tanto quanto in percentuale del PIL non in assoluto tanto quanto spendono paesi come la Svizzera il Giappone negli Stati Uniti dunque non paesi socialisti ma economie di mercato oggi avremmo uno stock di investimenti per questi cinque anni di quantitative easing uno stock di investimenti in istruzioni reti digitali formazione tecnologie verdi che sarebbe valso 500 miliardi di euro in più è stato una follia aver avuto tassi di interesse a zero e aver depresso gli investimenti pubblici in Europa cioè noi usciamo da dieci anni di crisi e di ripiegamento dopo la crisi completamente inermi di fronte a un mondo in subbuglio geopolitico dunque l'Europa per questa sua debolezza sta diventando ma è un altro argomento terra di conquista geopolitica da parte dei cinesi dei russi adesso vediamo gli americani cosa vogliono fare sui tassi sulle auto e dunque abbiamo fatto un grandissimo ricordo da questo punto di vista sì concordo sul fatto che per trattenere i giovani per attirare i giovani e per riattirare i giovani bisogna aumentare la qualità del territorio e delle imprese faccio un piccolo esempio qui vicino a noi il Veneto è esportatore netto di giovani formati ma c'è una ragione qui vicino a noi che è in Emilia Romagna dove questo non succede quindi abbiamo anche degli esempi vicino a noi da poter imitare e il reddito medio dell'Emilia insomma è superiore a quello del Veneto quindi partendo da la casa nostra insomma possiamo ambire a migliorare la qualità dal punto di vista della della spesa pubblica e dell'istruzione porto sempre qui l'esempio dell'America le famiglie americane si indebitano per la salute per ovvi motivi ma anche per l'istruzione cioè le famiglie americane si indebitano per questo perché poi in America studiare soprattutto l'università costa costa molto di più perché la competizione è sulla conoscenza quindi sia gli americani ma anche i cinesi investono cifre che noi neanche diciamo immaginiamo insomma per chi ha visto un po' che non è citato nel libro ma diciamo che fa parte di un'istituzione che ha circa diciamo duemila anni e quindi diciamo una governance abbastanza rodata insomma che è passata da e diciamo il capo di questa istituzione è diciamo un po' un diciamo un capo politico mondiale e ha introdotto fatalità gli stessi temi che si pongono nel partito democratico americano che si pongono diciamo con i verdi in Europa non i verdi italiani i verdi europei e e quindi il tema dell'ambiente che porta con sé il tema dei diritti credo che l'ideologia ambientale e l'ideologia dei diritti sia quella che poi diciamo continua a a esistere e quella che dovrebbe interpretare meglio quella che era diciamo cioè che era sinistra e che infatti diciamo tutti i movimenti contro ambiente e anche diciamo questo papa è molto osteggiato da una certa destra qui Padoan qualche settimana fa ci diceva la destra tedesca e la destra americana per per dire chi insomma ce l'ha con questo papa e quindi dal punto di vista ideologico credo che bisognerebbe trovare una convergenza su questi temi e sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista perché la chiesa insomma la sua abilità diplomatica ha anche fatto un passo importante in Cina che non è passato cioè che non è stato dato molto risalto ma il cardinale Parolin che è sempre uno diciamo qua da queste parti per conto del papa ha riconosciuto i vescovi di designazione cinese e questo per me significa un un importante atto di influenza che in qualche maniera la chiesa vuole portare sulla Cina perché la Cina va diciamo moderata usando la nostra base filosofica quindi la base filosofica diciamo dell'occidente di cui insomma la chiesa in qualche maniera è stata un attore importante in questi secoli perché bisogna portare anche i cinesi sulla diciamo sull'umanesimo e quindi sul valore dell'uomo solo questo diciamo riusciremo a moderare i conflitti che ci sono tra civiltà che hanno basi culturali diverse ecco dal punto di vista dell'ideologia mi sentirei di aggiungere questa riflessione qua grazie 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 mille per la serata. Volevo lanciare un paio di provocazioni anche per fare un po' da contraltare da studente liberista bocconiano. Sono entrato con Keynes dopo 5 anni, esco con Smith, Hayek, quella scuola lì. Posso avere la slide con la mano? Sostanzialmente in quel grafico si vedeva anche una cosa abbastanza interessante e mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensate su questo. Partiamo agli anni 70 in cui siamo in questo gruppo di paesi ricchi, l'ultima ruota del carro e torniamo dopo una cinquantina d'anni ad essere di nuovo la ruota del carro con maggiori disuguaglianze, però comunque vediamo sostanzialmente una crescita e poi una stagnazione che è dovuta alla stagnazione della produttività alla fine. Quello che secondo me si vede anche da questo grafico è che la crescita avviene quando sostanzialmente stampavamo tantissimo debito. Vediamo anni 70, 80, 90, cresciamo a ritmi più veloci dei nostri competitors europei anche perché stampavamo debito. Cosa succede poi? Entriamo nell'Unione Europea, serpentone fiscale, divorzi eccetera eccetera, non possiamo più stampare così tanto debito e ritorniamo a dove eravamo prima. Quindi prima questione per esempio, anche se vediamo fra l'altro un'altra cosa interessante secondo me è che i paesi a più alta tassazione e a più alto debito, cioè Belgio e Francia, ci fanno buona compagnia nel fondo della classifica. Anche perché vediamo che durante la crisi un paese che ha tanto debito è più appesantito e non può reagire con manovre fiscali. E quindi mi pare, forse non lo so, ma questa disuguaglianza che aumenta è veramente colpa dell'Olanda eccetera eccetera o è colpa nostra che abbiamo assunto troppo debito? E un'altra cosa, abbiamo parlato tanto anche contro il neoliberismo e questa disuguaglianza che si crea per per esempio i paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea. C'è un bellissimo libro fra l'altro di Mingardi, un bellissimo, un noioso libro di Mingardi, La verità vi prego sul neoliberismo, un mattonazzo a 500 pagine, e la tesi sostanzialmente è che in Italia e in tutto il mondo in realtà andiamo un po' tutti contro il neoliberismo perché è il capro ospiettore perfetto, ma in realtà qui in Italia il neoliberismo non lo vedi neanche col binocolo. Cioè abbiamo una tassazione effettiva del 60% e quindi tutto questo discorso secondo me, cioè in realtà l'Olanda piuttosto che l'Irlanda dovrebbero essere il nostro modello, non dovrebbero secondo me, non dovremmo additarli come quelli che ci rubano base fiscale, ma al contrario perché altrimenti no, cioè se noi fossimo il modello economico dell'Europa vuol dire che l'Unione Europea crescerebbe dello 0,5% all'anno. Direi che non è assolutamente quello che vogliamo, che nessuno vuole. Adesso mi pare anche evidente che chi è riuscito a coniugare un modello di welfare sostenuto con una tassazione piuttosto moderata se non bassa come Olanda e Germania sono i paesi che sono cresciuti di più, anche perché hanno tanta attrattività. Cioè adesso con il think time per cui lavoro stiamo lavorando su un libro sui giovani, io sto curando il capitolo sulla fuga dei cervelli. E pensandoci, sono secondo me importantissime anche, cioè parlo del mio caso per esempio, mi piacerebbe fare l'imprenditore, a 35-40 anni, mettermi in proprio eccetera eccetera. Ma per uno che ha vissuto, che ha fatto due scambi in Europa si considera al 100% europeo, mi considero veneto, italiano ed europeo. Chi me lo fa fare di mettere la sede fiscale in Italia, quando so benissimo che io con due ore di aereo sono a Parigi, 50 euro andate e ritorno con Ryanair, e che io francamente appunto mi considero assolutamente europeo. E allora è vero che l'Italia perde competitività, no? Ma è veramente uno sgambetto che ci fanno, oppure è colpa nostra che non riusciamo, cos'è che ci differenzia dall'Irlanda che porta le tasse allo 0%, al 2,5% corporate taxation, contro noi che abbiamo un 20%. E ultimissima appunto, su questa cosa degli aiuti fiscali, io non so la questione dell'Audi, ma sono per certo che Apple è stata multata dalla Commissione europea perché l'Irlanda aveva dato un trattamento preferenziale dello 0,0025% di tasse e questo per la Commissione sono aiuti fiscali e quindi sono illegali. Quindi io credo che in realtà arrivi prima o poi il warning dalla Commissione europea per... Cioè questo è illegale e non è giusto, però finché si fanno pagare le stesse tasse all'interno del paese a tutte le aziende, secondo me è concorrenza perfettamente leale e sono affaracci nostri e dei nostri politici che noi tutti votiamo, se io voglio andare in Francia piuttosto che stare qui in Italia. Ecco. Allora, posso rispondere? No, allora, hai sollevato dei punti veri e io non penso che l'Italia sia vittima di un complotto di altri paesi. Ho detto come prima cosa che noi non abbiamo avuto la lungimiranza di capire che alcune cose che abbiamo vissuto come fenomeni, degli shock esterni che abbiamo vissuto come minacce erano anche in realtà opportunità, ma questo dipendeva dalla nostra capacità di sviluppare il sistema educativo dunque per trasformare la rivoluzione digitale o la rivoluzione dell'automazione in produttività, l'apertura dei mercati non in una minaccia di concorrenza esterna, ma anche in conquista di mercati in maniera più efficace, eccetera. Dunque non voglio assolutamente essere assolutorio dell'Italia e ho anche detto che la ragione del successo dei paesi che hanno avuto il meglio nella globalizzazione non è solo perché estraggono valore in maniera non molto corretta dal resto dell'Unione Europea, ma anche perché hanno avuto la lungimiranza, eccetera. Dunque questo non è in discussione, non sto dicendo, se ho dato l'impressione di aver presentato l'Europa come un complotto ai nostri danni, evidentemente mi sono espresso male, però non mi sembrava di averlo detto e ci tengo a sottolineare questo punto. Detto questo, tu hai sollevato una serie di questioni, ti dici ma perché io devo stare in Italia? È giusto perché pago meno di tasse di Italia, è facilissimo andare da un'altra parte. Cosa vuol dire questo? Che siamo in uno Stato. Uno Stato come si può definire? Si potrebbe definire come uno spazio retto dallo stesso sistema giuridico come di fatto l'Unione Europea, retto da libertà di movimento al suo interno, retto da libertà di movimento delle persone, delle merci, dei capitali e questo è uno Stato. Di fatto da questo punto di vista siamo in uno Stato, ma cosa c'è che non è uno Stato? Dove dunque si creano questi che gli economisti a partire da Krugman chiamano effetti di agglomerazione, cioè le risorse che siano umane o finanziarie, produttive, vanno verso i luoghi dove è più conveniente per loro produrre e poi questo crea la forte crescita, faccio per dire della Silicon Valley e poi c'è la Rust Belt negli Stati Uniti che è arretrato in New York e lì si va verso le coste. La differenza, e questo è il mio punto, che rispetto a uno Stato di questo tipo è che non c'è il bilancio e non c'è il bilancio perché in questi Stati c'è la difesa, c'è un livello di istruzione comune e dunque le persone che poi vanno dalla Rust Belt hanno avuto un livello comune di tassazione dunque la tassazione dei poli aggreganti che fanno densità, che possono essere la Silicon Valley o New York contribuisce tanto o poco, ma contribuisce alla formazione o alla difesa o alla cura se non dei giovani che poi vanno sulle coste dei loro genitori o dei loro nonni. Da noi questo non c'è, cioè i paesi che sono in condizione di ottenere il meglio dall'effetto di agglomerazione non condividono i costi e questa è la grande contraddizione che sta generando il populismo e questo non viene mai raccontato da loro perché a loro non conviene e dai nostri europeisti no perché non si può parlare mai dell'Europa e dai nostri sovranisti no perché non capiscono nulla, scusate perché non capiscono le dinamiche e dunque io non sono contro il mercato e non sono contro la competizione nel mercato viva la concorrenza, ma allora se c'è questo sistema di concorrenza se noi abbiamo investito 200 miliardi nell'istruzione di quelli che vanno in Germania non voglio sentire dire che loro non vogliono condividere neanche 10 miliardi di costi comuni ma viva la concorrenza non può voler dire che teoricamente l'utile netto per addetto è 250 mila euro quando in un'economia sana è 10 mila euro perché questo vuol dire che lì non c'è la produzione lì c'è la sottrazione artificiale attraverso operazioni contabili di utile e questo è concorrenza scorretta, fiscale scorretta, sei un paradiso fiscale quando fai questo, quando il fatturato delle quattro principali aziende americane farmaceutiche in Olanda è sei volte quello che c'è in Italia o quattro volte, adesso non ricordo è l'utile il 31% quando in Italia e negli altri paesi è del 5-6% questo vuol dire che c'è un trasferimento artificiale di utili quando Google nella regione Europa, Medio Oriente e Africa non versa tasse e poi tutto l'utile compare in Olanda per 22 miliardi l'anno e su quell'utile paga lo 0,2% questo non è tasse uguali per tutti e l'Audi quando paga 0% non è tasse uguali per tutti e potere delle grandi aziende su governi deboli o su governi compiacenti e non c'entra niente con la concorrenza corretta questo noi abbiamo il dovere di dirlo perché allora vuol dire che vince quello che è disposto a fare i maggiori favori all'azienda più forte e allora già andare a prendere quello 0,0005 di Apple ci sono voluti anni e poi anni di inchiesta poi la decisione, poi anni in corte di giustizia alla fine ce l'hanno fatta su un'azienda ma quelle sono decine, centinaia di aziende che fanno così non ci sono le persone alla Commissione Europea per andarle a prendere una a una non ci sono, è un lavoro immane e poi del trattamento fiscale delle aziende tedesche che è sempre ad hoc per loro non ce ne sono due che pagano le stesse tasse Mercedes in Ungheria paga l'1,6 Luke Oil in Bulgaria pagano, non mi ricordo hanno tutti i loro deal personali per me questa non è concorrenza dunque tanto quanto credo alla globalità che sia un'opportunità e che dobbiamo coglierla e ci sono tante cose che noi dobbiamo fare questo non vuol dire che dobbiamo stare zitti di fronte agli atteggiamenti opportunistici degli altri è questo che non riesco evidentemente non riesco a farmi capire perché se siamo alla Bocconi mi prendo questa risposta qua se siamo da un'altra parte mi prendo la risposta allora l'Europa è brutta, sporca e cattiva no, l'Europa non è brutta, sporca e cattiva l'Europa è una democrazia fondata sulle regole basata su istituzioni questo vuol dire che la visione che ci davano dell'Europa che quando avremo l'interazione europea sarà un'armonia meravigliosa ma no, perché la democrazia non serve per gestire l'armonia serve per gestire il conflitto fra interessi che è legittimo esplicitarli, incanalarli dare delle regole nelle quali si compete per decidere insieme quali regole si applicano ma per questo noi dovremmo liberarci di complessi oggi poi è difficilissimo anche perché se noi continuiamo a pensare con il debito che abbiamo nessuno ci sta a sentire perché questo è l'argomento che mi sono sentito è vero, se noi abbiamo scusate, lo dico un governo che mette un aumento di spesa di 133 miliardi con il debito che abbiamo in tre anni è chiaro che nessuno ci sta a sentire è chiaro che noi dobbiamo dimostrare un senso di responsabilità però se voi siete la Sicilia che veramente noi italiani stiamo pagando per la Sicilia gli europei non stanno pagando per l'Italia ma noi italiani stiamo pagando per la Sicilia che è fallita, è fallita, è fallita ma se noi dicessimo ai siciliani senti voi perché noi stiamo pagando per voi ma lì succede una rivoluzione è una rivolta politica è inaccettabile pensare che poiché uno ha debito non ha diritti politici è inaccettabile anche quando si sta pagando per la regione che ha debito quando poi non si sta pagando lo è ancora di più che non vuol dire che questo governo per me o anche il governo Renzi ha fatto tanti errori da questo punto di vista noi dobbiamo mostrare che siamo consapevoli che il debito pubblico è un problema vero e che va affrontato ma non vuol dire che non abbiamo diritti politici questa è una distorsione di come deve funzionare la democrazia poi la gente si rivolta ma io lo capisco che si rivolta senza giustificare i sovranisti che non li sopporto e secondo me alla fine sono anti-europei scusate poi qui veramente chiudo tutte queste cose sono molto non si prestano alla narrazione semplificata come quelle vanno di moda oggi perché sono anti-europei? sono anti-europei perché non è che sono anti-democratici perché non c'è nessuno come i sovranisti che è così ossessionato dai sondaggi dalla popolarità dal voto dunque non si può dire che siano anti-democratici vogliono il consenso lo ottengono sono democratici però non si riconoscono nella democrazia rappresentativa che è basata su anche istituzioni indipendenti su regole, su pesi contrappesi e l'Europa è il più perché per questo se la prendono con i pennivendoli eccetera perché rappresentiamo un contrappeso e l'Europa rappresenta la più grande forma di peso e contrappeso in una democrazia rappresentativa e non lo sopportano vorrebbero distruggerla per quello perché vorrebbero fare a casa loro che è anche casa nostra quello che vogliono mi scuso per chi di voi qualcuno che li ha votati ci sarà dunque sto dicendo cose che non favoriscono la vendita del mio libro però devo dire quello che penso e lo come dire vogliono distruggere l'Europa perché vogliono fare a casa loro che è anche casa nostra quello che vogliono e questo può essere molto pericoloso perché non è così che funziona la democrazia rappresentativa sì e poi scusa volevo solo aggiungere una cosa che ho letto in questi giorni con l'ultima con l'ultima diciamo minaccia di Dazi di di Trump ai cinesi diciamo i cinesi hanno disertato le aste dei titoli pubblici americani questo lo dico perché nel tuo retro di copertina no dici impero degli altri qualche impero più lontano meno democratico al quale finiremo con il dovessi sottomettere quindi diciamo i viaggi in Cina per diciamo pensare di finanziare il debito italiano o in Russia corrispondono alla vendita diciamo di sovranità quella lì è una vera vendita di sovranità e se ne stanno accorgendo anche gli americani che dal punto di vista del debito pubblico non sono così messi bene neanche loro perché hanno bisogno di qualcuno che finanzi il loro debito pubblico ecco i cinesi che detengono una quota importante stanno mettendo anche quello sul piatto della bilancia e noi sicuramente diciamo che veniamo rispetto alla Cina alla posizione molto più debole di quegli americani non possiamo permetterci di diciamo farci incatenare da Cina insomma col debito pubblico e l'altra cosa che ho visto invece in America e che vorrei aggiungere è che è vero che la tassazione è elevata in Italia ma c'è un problema anche di cosa si tassa in Italia cioè la tassazione sul costo del lavoro e sul reddito di impresa è un retaggio di quegli anni lì dove diciamo si pensava che la crescita economica fosse inarrestabile che siccome c'era tanto lavoro si tassava il lavoro cioè io in America ho comprato una casa cioè io su una casa nel valore di 350 mila euro pagavo cioè pagavo circa 7-8 mila euro all'anno di tasse sulla casa che finanziavano la scuola del territorio la polizia del territorio la polizia delle strade e altri servizi ovviamente con dei servizi molto di eccellenza cioè immaginiamo se le tasse anziché essere sul lavoro sui fattori del lavoro sui fattori di creazione della ricchezza fossero sui patrimoni no cioè già lo spostamento delle tasse da un fattore all'altro cambia la prospettiva in un paese e da questo punto di vista devo dire che gli americani diciamo privilegiano la creazione cioè diciamo in qualche maniera fanno pagare alla rendita qualcosa ecco mentre noi diciamo abbiamo spostato tutta la tassazione sul lavoro e questo non è che rende le cose più facili dopo per essere attrattivi ecco questa cosa qui mi sento di dire grazie mille purtroppo insomma il nostro tempo per stasera è scaduto grazie ancora per la partecipazione a Federico Maurizio per i loro contributi e Federico ti aspettiamo qui per il prossimo libro grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti